ciao sono io il vostro eddi di influencer forum in questo breve video voglio semplicemente farvi sapere come contattare la nostra redazione il primo indirizzo è a redazione chiocciola influencerforum.com e in questa mail scriverete semplicemente chi siete cosa fate e perché volete raccontare la vostra storia il secondo indirizzo è per parlare direttamente con me senza intermediari e ovviamente l'indirizzo è eddi chiocciola influencerforum.com il terzo indirizzo attenzione è un sito perché influencer forum si sta ampliando e sta dedicando i propri servizi per migliorare la presenza online di imprenditori networker e libri professionalisti e per questo il consiglio è di visitare il sito www.influencerforbrand.com ma non è finita qui perché se necessitate di una mano di un aiuto professionale per migliorare la vostra presenza all'interno dei social media la mail alla quale dovete scrivere è luca chiocciola influencerforum.com dove andrete direttamente a contattare il nostro esperto di social media marketing e infine ultima ma non ultima c'è la mail dedicata alle domande ai dubbi alle curiosità insomma a qualsiasi cosa possa venirvi in mente ed è info chiocciola influencerforum.com prima di salutarvi ci tengo a dirvi che rispondiamo al 100% delle mail in meno di 24 ore inoltre siamo praticamente dappertutto con i nostri canali social siamo su instagram siamo su facebook abbiamo il nostro canale youtube con tutte le interviste e gli articoli pubblicati finora siamo su linkedin insomma ragazzi potete trovarci praticamente ovunque non esitate a contattarci e ci sentiamo presto